io ho detto tu non riesco a fare i provviste vai mi raccomando fai un bel lavoro e stai attento in bocca al lupo ah stai attento a Cicchini ero un uomo lagu fa io sto di guardia oggi vi parlerò di This War of Mind e te l'avevo detto di stai attento non si mangia nemmeno stasera un gioco di Michael Orax è Jacob o Jacob o non so come si dica Wisniewski boh edito dalla Pentragon Game Studio da 1 a 6 giocatori da durata media di 45-120 minuti è un gioco cooperativo basato sul videogioco This War of Mind la plancia è veramente enorme ed è Double Face questa sarebbe la versione normale e dall'altro lato abbiamo la versione difficile in questo gioco vestiremo i panni di civili che cercano di sfuggire alla guerra quindi ci rifugieremo in questa casa e dovremo renderla il più abitabile possibile per riuscire a sopravvivere dovremo bere dovremo scibarci e dovremo anche scaldarci perché farà sempre più freddo e questo influirà negativamente sia sulla nostra salute che sul nostro morale questa casa non è di uno dei personaggi del gioco entreremo in questa casa e la dovremo rendere abitabile quindi andiamo a posizionare nei vari spazi le carte relative metteremo i detriti sopra i detriti porte le macerie i mobili e così via dopodichè dividiamo tutte le carte in vari mazzetti e andiamo a riempire tutti questi spazi praticamente sono tutti intorno alla plancia fatto ciò togliamo dai residenti e dai raid notturni tutte le carte che hanno il bordo rosso e le mettiamo da parte giriamo tra i cartelluoghi e le mettiamo negli spazi vicino, distante e lontano prepariamo il mazzo eventi mescolando i tre eventi finali sopra vi mettiamo il capitolo 3 poi prendiamo 4 eventi casuali vi mettiamo sopra il capitolo 2 ancora 3 eventi casuali e infine il capitolo 1 questo sarà il nostro mazzo degli eventi prendiamo le carte personaggi e le giriamo finché non troviamo abbiamo una carta bordata di rosso e due carte bordate di nero questi saranno i nostri personaggi le altre carte personaggio le rimettiamo a posto prendiamo quindi le miniature dei vari personaggi applichiamo una basetta colorata per distinguerli e li posizioniamo nel punto di guardia della casa tutti i personaggi iniziano con un segnalino status di fame a livello 2 su ogni carta personaggio abbiamo vari valori il coraggio ci permette di ritirare un dado in caso di combattimento l'empatia è un valore che andrà confrontato con il risultato del dado nero poi abbiamo in questa banda colorata delle abilità che sono positive mentre quelle sotto riguardano il morale e sono quasi sempre negative in fondo a destra abbiamo l'inventario che sarebbe il peso massimo in oggetti che questo giocatore può portare ogni personaggio ha 3 azioni a disposizione però partendo tutti con fame 2 possiamo fare solo 2 azioni infatti dovremmo sempre contare i cerchietti bianchi quello nero indica un'azione che non possiamo fare se avessimo avuto per esempio la fatica a 3 avremmo potuto fare solo un'azione durante il nostro turno tra tutti quelli che abbiamo dobbiamo sempre guardare lo status peggiore mettiamo nel magazzino 4 pezzi di legno 4 ingranaggi 2 di acqua 3 di cibo crudo una pala e un grimaldello su ogni oggetto troviamo il peso infatti ogni personaggio può trasportare solo un certo numero di oggetti e il suo valore infine posizioniamo il segnalino rumore sull'1 scegliamo casualmente il leader e gli diamo il libro delle storie il leader avrà il ruolo di avere l'ultima parola sulle decisioni e se prendiamo il diario troveremo dei punti con delle frecce dove c'è scritto il prossimo giocatore in questi punti il leader passerà al giocatore successivo in questo modo avremo tutti la possibilità di avere la scelta definitiva quindi iniziamo la partita girando il capitolo 1 nel capitolo 1 troviamo in alto una descrizione di quello che è successo ed è sempre bene leggere queste storie ad altavoce in modo da immedesimarsi in quello che sta succedendo nella parte sotto invece ci dice cosa dobbiamo fare dobbiamo determinare gli obiettivi per questa campagna quindi prenderemo dal mazzo degli obiettivi l'obiettivo finale e altre due carte obiettivo facendo così il nuovo mazzo degli obiettivi queste carte andranno tenute scoperte in modo che tutti i giocatori vedano cosa devono fare alla fine di ogni capitolo verifica la ricompensa penalità della carta obiettivo corrispondente dopo aver risolto questa carta elimina dal gioco e pesca la prima carta evento quindi sceglieremo le carte obiettivo e gireremo il primo evento negli eventi vi ha indicato quanto freddo va aggiunto alla plancia in questo caso 1 e poi abbiamo quello che succede in questo caso ci sono dei cecchini che ci spareranno quando usciremo per andare a cercare i rifornimenti sopra così tutte le carte del gioco vi sono indicati dei numeri questi andranno ignorati a meno che il gioco non ci dica di leggerli in questo caso prenderemo quel numero e lo andremo a cercare nel libro delle storie possiamo posizionare un solo personaggio nelle varie stanze della casa ad eccezione delle carte macerie e rovistare ogni round è diviso in quattro fasi e sono il mattino, il crepuscolo, la sera e l'alba al mattino andiamo a compiere le nostre due azioni dove troviamo delle mani sopra la plancia comprese quelle sopra le carte queste indicano che possiamo svolgere un'azione se il numero di personaggi è minore a quello dei giocatori possiamo muoverci all'esterno e spendendo un'azione possiamo intanto cercare di scrivere una pallottola sparata da un cecchino e poi cercare un nuovo visitatore per la casa se ci posizioniamo qui scegliamo due carte dalle idee e le spostiamo nel mazzo miglioramento in questo modo le renderemo costruibili possiamo rovistare ovvero reperire delle merci che possono essere legno e componenti tramite il tiro del dado oppure possiamo aprire delle porte chiuse scavare tra le macerie oppure cercare tra i detriti tutte le carte rosse bloccano il passaggio mentre tra quelle blu possiamo muoverci liberamente dal momento che abbiamo scelto cosa vogliamo fare svolgiamo tutte le azioni contemporaneamente quindi cerchiamo tra i detriti e mettiamo tutti questi oggetti dentro il magazzino sopra la carta maceria c'è scritto che per scavare abbiamo bisogno di una pala o di un personaggio in più ma avendo una pala in magazzino la posizioniamo sopra la carta e appena scaviamo la rimettiamo in magazzino e giriamo la carta dietro troviamo altri resti di macerie quindi la riposizioniamo nel solito punto e vi rimettiamo il personaggio sopra per aprire una porta abbiamo bisogno di un grimardello lo posizioneremo sopra la porta poi tireremo il dado nero se il risultato del dado nero è tra 1 a 3 non abbiamo nessun effetto e rimettiamo il grimardello in magazzino se invece il risultato è da 4 a 10 lo scartiamo e apriamo la porta aprire una porta ci fornisce di un componente e di un legno nelle stanze libere e anche sulle scale possiamo costruire dei miglioramenti per fare ciò scegliamo dal mazzo miglioramenti la carta che preferiamo scartiamo gli ingredienti al magazzino e la costruiamo sopra ad ogni miglioramento c'è scritto che cosa fa con un'azione raccogliamo l'acqua piovana e questo è un miglioramento molto buono infatti ci ritroveremo sempre assetati e questo ci darà una mano per sopravvivere dopo che avremo svolto tutte le azioni con i personaggi passeremo alla fase del crepuscolo qui dovremo dare da mangiare e dare da bere a tutti i personaggi avendo solo due segnalini acqua possiamo dare da bere a solo due personaggi l'ultimo dovrà tirare il dado nero da 1 a 5 aumenterà la fame e da 6 a 10 aumenterà la tristezza quando il diario ci indica che dobbiamo aumentare una statistica prendiamo il segnalino indicato e lo aumentiamo chi non mangia aumenta solo la fame adesso passiamo alla fase sera e possiamo assegnare a ciascuno dei personaggi uno di questi quattro compiti possiamo dormire in un letto se lo abbiamo costruito e questo ci farà reimpostare la fatica a 0 possiamo dormire sul pavimento e questo ci farà diminuire la fatica di 2 possiamo fare il turno di guardia e questo è praticamente sempre obbligatorio oppure possiamo andare in perlustrazione i personaggi che fanno il turno di guardia e vanno in perlustrazione aumentano la propria fatica di 1 il personaggio che va in perlustrazione può portarsi con sé dell'equipaggiamento presso dal magazzino se le abbiamo è sempre bene portarsi dietro delle armi ma possiamo portarci anche dietro degli oggetti da scambiare se per esempio abbiamo scavato tutte le macerie della nostra casa possiamo portarci la pala che ha valore 6 per poterla scambiare con qualcuno se lo troviamo nei vari luoghi naturalmente non possiamo mai superare il valore di inventario di quel personaggio dopo di che scegliamo un luogo da visitare e in base a dove ci posizioniamo peschiamo le carte relative dal mazzo esplorazione prendiamo quindi 14 carte esplorazione e le mettiamo nello spazio ignoto adesso ne risolviamo una dopo l'altra su ogni carta c'è scritto cosa dobbiamo fare troviamo delle scale che salgono e quindi possiamo o cercare un'altra strada e restituire due carte esplorazione ovvero prendere due carte dal mazzo ignoto e le rimettiamo sopra il mazzo esplorazione principale oppure entriamo entrare e comporta l'aumento di 2 sul rumore quindi spostiamo il segnalino rumore di 2 e tiriamo il dado nero se il risultato del dado è maggiore a quello del rumore non succede niente ma se è pari o inferiore riportiamo il rumore ad 1 e peschiamo la prima carta residenti e la risolviamo in questo caso troviamo dei delinquenti tiriamo il dado nero e vediamo quanti ne troviamo e poi prendiamo i segnalini corrispondenti e vediamo con cosa sono armati i delinquenti il combattimento inizia immediatamente e andiamo a vedere in questa tabella quali dati dovremmo tirare a seconda delle armi se sono disarmati dobbiamo tirare il dado grigio se sono armati di lame tireremo il dado giallo e se hanno armi da fuoco tireremo il dado rosso questo vale anche per noi a seconda dell'arma che abbiamo tireremo questo dado quando avremo finito di esplorare tutte le carte ignoto finiremo la prelustrazione metteremo tutti gli oggetti che abbiamo trovato nella pila dei ritrovamenti e se abbiamo un limite di peso sceglieremo quali oggetti portarci con noi e quali lasciare lì chi è di guardia avrà a che fare con i raid notturni possiamo equipaggiare questo personaggio con armi che abbiamo in magazzino quindi dopo aver equipaggiato il nostro personaggio peschiamo la prima carta del raid notturno entrano dei ladri e sotto alla voce danni ci indica che perderemo 6 segnalini risorse cominciando da quelli più costosi quindi toglieremo dal magazzino gli oggetti che hanno il valore giallo più alto per arrivare a un valore di 6 in più dobbiamo distribuire due ferite sui personaggi presenti nel punto di guardia essendoci solo un personaggio questo personaggio riceverà due ferite dopo di che abbiamo finalmente l'alba ritornano gli esploratori nel rifugio possiamo assegnare medicine e bende ai personaggi che si trovano all'interno peschiamo la carta fato della carta fato dobbiamo ignorare completamente la parte in fondo e partendo dall'alto la risolviamo infine prendiamo due carte azioni narrative che sono sempre positive e ne scegliamo una da giocare su ogni carta c'è scritto quando può essere giocata e l'effetto che avrà alla fine della fase alba dobbiamo verificare se durante questo turno è morto uno dei nostri personaggi se fosse stato così dobbiamo tirare il dado nero e verificare il valore che è uscito con quello dell'empatia dei personaggi se il risultato è uguale o minore aumenteremo la tristezza di due in conclusione il libro delle storie è il bello di questo gioco grazie ad esso avete sempre un'avventura diversa il fatto che il regolamento sia scritto sia nel libro delle storie che nel diario è sia un pro che un contro un pro perché è uno dei pochi giochi che ti insegna a giocare mano a mano che giochi un contro è perché spesso dovrete andare a ricercare nel libro delle storie quella regola a quella pagina con quel numero i materiali sono ottimi non è proprio un gioco adatto a tutti bisogna essere un po' ammanicati come si dice noi in toscana e nelle prime partite verrete veramente massarrati dal gioco perderete tantissime volte la quantità di oggetti che abbiamo dentro la scatola ci fa capire come mai a questo prezzo un saluto al vostro Torturo e al prossimo video grazie grazie grazie